65 opere di 9 artisti aretini di nascita o adozione in esposizione alla Galleria d'Arte Contemporanea di Arezzo. È la mostra collettiva Arezzo per Arezzo, visitabile sino al prossimo 28 gennaio. Abbiamo 9 artisti che rappresentano vari stili ma tutti ugualmente emozionanti e credo che dovevamo questo tributo all'arte contemporanea aretina, altrimenti scordiamo che Arezzo produce arte ancora oggi, non l'ha produta soltanto nel Rinascimento. E quindi è importante che questo avvenga ed era simbolico e doveroso ospitarli nella Galleria d'Arte Contemporanea. Preannuncio che questo è un Arezzo per Arezzo zero, poi ci sarà un Arezzo per Arezzo uno o due o tre o quello che sarà. Angini, Caporali, Fanfani, Gatteschi, Lucci, Marselli, Polvani e Sevillano sono gli artisti aretini protagonisti dell'esposizione. Credo di appunto aver dato abbastanza luce a ognuno di loro in maniera molto imparziale. Io dovevo comporre un allestimento dove gli spazi dovevano essere equi e quindi dare possibilità a tutti alla stessa maniera di esprimersi, farsi vedere, farsi conoscere. E più che altro anche poi ho pensato di rivolgere questa mostra proprio al pubblico più ampio, anche quello che magari non è abituato a entrare in galleria. E quindi durante il periodo dell'apertura della mostra ci saranno varie attività rivolte ai ragazzi, rivolte agli adulti, proprio per avvicinarli a questo mondo.